Ambiente e territorio. Il candidato del centro-destra alla Camera dei Deputati, Mario Pietracupa, ritiene che il rilancio del Molise debba passare per uno sviluppo ecosostenibile. Per la scelta del candidato presidente alle regionali c'è parecchia confusione. La scelta del candidato presidente nel centro-destra crea imbarazzi e incertezze. Accuse personali, la campagna elettorale si accende anche su aspetti poco pertinenti con la politica, come al solito, e lontane dai programmi che interessano invece la gente. C'è anche un pezzo di Molise nella regione Lazio che si accinge a rinnovare anch'essa il Consiglio regionale. Il vicepresidente della regione è Massimiliano Smeriglio, originario di Termoli. Un'idea sicuramente unica, quella di realizzare il tappeto più lungo del mondo fatto con un uncinetto per promuovere il proprio territorio. Grazie.